La gara si è decisa dopo l'intervallo, quando l'Amen ha trovato l'allungo decisivo, sfruttando una migliore condizione atletica rispetto agli avversari e una maggiore attenzione difensiva. Top scorer della partita è stato Kirlis, autore di 32 punti, la gemma del mercato estivo della SBA, molto pimpante in questa fase della preparazione, Gramaccia che oltre ai 18 punti sta dando un contributo solido alla squadra. Con questo risultato l'Amen chiude al secondo posto il girone alle spalle del Val di Sieve, la vittoria infatti della Synergy 81-77 contro i Fiorentini ha relegato gli Amaranto alla Piazza d'Onore, una piazza d'Onore che comunque vale lo stesso l'accesso ai quarti di finale della Coppa Toscana come miglior seconda. Si torna in campo subito domenica prossima. Grazie al miglior piazzamento nello scorso campionato, la Mensba giocherà in casa alle 18.15 contro Livorno. Poi abbiamo visto la classe, l'abilità di alcuni elementi, di tutti gli elementi, di tutte le rotazioni perfette, e quindi un punteggio che può sortire anche isperatamente e forse meritatamente una promozione, un passaggio del turno. Tratti molto bravi e belli, a tratti meno. Il primo quarto in particolare non mi è piaciuto per niente. Abbiamo dato un obiettivo alla squadra che non hanno per niente rispettato. Abbiamo subito 27 punti, abbiamo concesso tanti rimbalzi in attacco, abbiamo fatto un sacco di palle perse e in difesa non abbiamo ottenuto veramente nulla di quello che si era studiato durante la settimana. Poi in attacco siamo stati bravi a mantenere la partita attaccata perché qualche giocata di qualche singolo e qualche azione di squadra ce l'ha consentito. Però nel primo quarto sicuramente forse anche due passi indietro rispetto alla partita di sabato scorso. Poi nel secondo quarto abbiamo iniziato a ingranare la nostra marcia sia in attacco che in difesa. Abbiamo, come si vuol dire, tolto il freno a mano in attacco e in difesa abbiamo iniziato a stringere le maglie. Abbiamo concesso 12 punti nel secondo quarto, 7 nel terzo e 10 nel quarto. La squadra in attacco ha iniziato a giocare quello che in settimana, da ormai un mese stiamo provando. È normale che più andiamo avanti, più inserendo sempre nuove cose, all'inizio c'è da oleare un pochettino la manovra d'attacco. Però poi è anche giusto che i singoli facciano le loro giocate e va bene così.